Musica E' a 71 anni di distanza da quel 2 giugno 1946 in cui si tene il referendum istituzionale e che portò alla nascita della Repubblica che anche Arezzo ha festeggiato questo importante anniversario con la solenne deposizione al Sacrario dei Caduti della Corona di Alloro. Musica Le celebrazioni della festa della Repubblica sono poi proseguite quest'anno al Teatro Petrarca con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna dell'onorificenza e dell'ordine al merito della Repubblica italiana. Un riconoscimento importante per Enzo Scartoni nel giorno della festa della Repubblica. Sì, sono molto contento di questa onorificenza, anche non me l'aspettavo. Devo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questa onorificenza, come chiaramente si può dire. Quando uno crea qualcosa di buono penso che prima o poi viene ripagato. Voglio bene la mia città, voglio bene agli aretini, quello che ho fatto l'ho fatto senza sacrificio e lo rifarei un'altra volta. Sì, l'ho fatto anche volentieri, soddisfazione. Grazie. 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 Grazie.